Scusate ragazze, chi è che mi darà un bacino? Un bacino. Un bacino. Perché? Ah, è una sfida che mi hanno fatto, che devo baciare 10 persone. Veramente. Sì, sì, te lo giuro. Un bacino. Mangiamo un bacino. Così, sette. Non devi essere timida, uno avrà meno. Vai. Otto. Vai. Ciao a tutti. Con il Faraon, il portico del Faraon. Il giorno di oggi, ragazzi, Il giorno di oggi, ragazzi. Il giorno di oggi, ragazzi, che voglio fare un qualcosa di meridioso. Il giorno di oggi, ragazzi, è passato a fare una burocchia qui. La loro burocchia qui è riuscita a fare una burocchia. ma come si è un giusto in Mocer la persona non è una buona ma si è diventata e si guarda la sua parte e si guarda la sua parte e si guarda la sua parte non sapevo a chi e quindi per te vediamo qui il risultato il risultato e il risultato e per te vediamo come si è un risultato qui quindi questa è una cosa che ci sono andati a fare tutti i miei e mi racconti che io voglio fare un pozzo e io vedo e io vedo le persone qui sono come l'acqua e io vedo il risultato e vedo il risultato di loro e ovviamente come noi sappiamo sono incontri quindi la mia amata è piaccata che sia il bambino quindi non è così quindi non mi sembra che sia una ragazza e direi alla mia amata Sì, la mia figlia, la mia figlia, la mia figlia, la mia figlia, la mia figlia. Quindi la mia figlia è arrivata a quel momento. Ma il problema è che tutti i ragazzi sono qui. Guardate questo? Alla mia figlia. Guardate qui. Guardate, vieni. Scusate ragazza, vorrei chiedervi una domanda. No, no, se volevo parlare con te ho visto qualche telefono. Ma sei di Alasio? Torino. Sei di Torino? Ok. Questo è un video per TikTok. Aiuto! Tranquilla, loro mi hanno sfidato oggi a scendere qui ad Alasio Ok. E a dare dei baci gratis. No, sono fidanzata. Sei fidanzata davvero? Da quando? Da mai in realtà però. Non si dicono mai le mie... Ma comunque è un bacino sulla guancia. Va bene. Ok. Qua. Basta così, vedi? Lo metto? Basta. E niente, vedi, devo baciare almeno 10 oggi. Quindi è una lunga serata sarà. Boss. Boss. Boss, ero da Boss. Scusate ragazzi, ma parlate italiano? Sì, sì. Ah, perfetto. Questo è un video per TikTok. Ok. Niente, e volevo farvi una domanda. Mi hanno chiesto di baciare 10 persone. Mi date un bacino sulla guancia? Guarda che è gratis. Un bacino sulla guancia. Che video di TikTok è? Scusate. È una sfida. Su TikTok. Ragazzi, un bacino fa bene per la giornata. Sapete questo? Un bacino. Me lo dai. Ragazzi. Niente. Voi? Quanto sei? Ah, adesso. Sono appena iniziato. Due. No, due in realtà. Mi manca ancora otto. Vabbè, dai. No, voi. No, buona fortuna. Dai, dammi uno. Tre. Dai, il quarto. Quattro. Cinque. Dai, questo è l'ultimo. Così è il quinto, vai. Cinque. Mi manca no cinque. Vero. Ci metero laici in TikTok. Grazie. Ciao ragazzi. C Pak! Il mio cuore. Il mio cuore di qui si è accolato? Il mio cuore di qui si è accolato. Il cuore di qui si è accolato. Il cuore di qui è accolato. Il cuore di qui si è accolato. Concelo diciù più yummai. Raffa, si è accolato, un cuore di qui è l'aristico. ora abbiamo fatto 5, 5 sono tutti i bambini, abbiamo bisogno di 5, anche io. Sì, mi piace? Mi piace? Sì, è tutto, mi piace? Faccio 5, mi piace? Ma faccio le mie, mi piace. Sì, mi piace? Non so, non so, mi ha fatto? Non so, non so, non so. E' un video per il tiktok E' un video per il tiktok Mi dà un bacino Ecco qua Un bacino signora Grazie Grazie mille Vedi? Un bacino Un bacino Strive Linji Independente Front 他 ne Un bacino Il bacino Per La La Ecco l'articare una grande didna, buona divertente, ma abbia tutti gli altri adori lo spettano, non sopiti a lavorare a fare. E' fare? Stando solo se si puoi vedere una cosa dentro il umano o in un paese, puoi vedere la parte di privata le forno e ripassare. Questa non risposta, non è più ommeno. Tutta una quinta un mattina. Puoi vedere la faccia. Ehi, non c'è nessuno, non c'è nessuno, ma c'è nessuno, non c'è nessuno. Ragazzi, io sono qui oggi per dare dei bacini gratis, Alasio vero? Si chiama Alasio. Quindi ragazzi, mi date un bacino, è un bacino gratis, fino ad adesso ho preso 5, mi mancano 5, sono 10 che devo prendere, così siete, e sono 8, ok, un bacino, e adesso sono 8, com'è che vi chiamate? Sofia, Sofia, Maria Giulia. Ok, e niente, grazie ragazze e buona serata. Grazie, ciao. Ehi, qualuntать. Ehi, qualunique, c'è cara, comeva e se làmla di scopri. Sì, se li è un bacino per gioco, che credo le scopri delle cose non c'è nulla e due. Let's guardare le scopri delle cose un bel come una scopri delle cose, un'aperto, perché ho un bacino con i figli. Fai a carto betto, allah! Mi fai bella! Che tenera! Aspettate ragazze! Che sei bellissima! Ragazze, buona serata! A voi! Dammelo! Ti aspettiamo, vieni! Che hai da fare? Io? No ragazze, dovete venire! Zero club! Grazie! Ciao ragazze! Ciao! Come sempre ragazze, dovete essere tenere, gentili e bravi! Vieni! 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 Tu sei da un cedido, e c'è quello che hai da fare, voi lo farei? Ti accettete? Ti accettete, se ti accettete con una zara di estri, in un raro di cedido, Di usame da tèo, e c'è il cuore? Ha acettete! Ecco qua, uno, due, tre, quattro, cinque, sei Scusate ragazze Chi è che mi darà un bacino? Un bacino Un bacino Perché? Ah, è una sfida che mi hanno fatto Che devo baciare dieci persone Un bacino Fino adesso? In realtà sei Mi mancano quattro Ragazzi un bacino E dove finisce sta roba? Su TikTok Oddio Guarda che è un bel video, non sto spersando Nader Te lo faccio vedere dopo Veramente Un bacino Ah così, set Non devi essere timida Vai, otto Vai Ragazzi è l'ultima Mi manca, l'ultima Vieni, vieni Basta ho finito, vedi che facile Vai su TikTok ora Bosse Ma non mi regalo dei soldi Lo vorrei fare in realtà però non con questa sfida Sì sì, nader vai È il primo Vedi? Sei famous Non è normale Sì è questo Ma sei te Sei famous Famous Siamo famose Adesso siamo famosi tutti Ciao Bosse Grazie mille ragazzi Vedi? Che figo sto che non so dove dai tre Vedi, vedi, vedi Vedi Ovvero Sì sì, di là Vedi 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 Avicii Vedi 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 Grazie a tutti